Buonasera, mi chiamo Gidi Sonia, sono una candidata al centro-destra, sono un medico veterinario che lavora per un'associazione di zootecnica. Il centro-destra è convinta della politica del bio, infatti noi siamo pienamente convinti che la nostra agricoltura deve per forza passare al biologico, in quanto la nostra tradizione, che è una tradizione che ultimamente si è trasformata un po' sull'allevamento e anche la conduzione agricola più, come si può dire, scusate, non sono abituata a parlare davanti alla televisione, un'agricoltura intensiva. Noi vogliamo passare invece a un'agricoltura biologica perché è un ritorno alle nostre origini. L'agricoltura biologica è quella che ritorna, che ti dà il benessere, la biodiversità, riportare le razze autoctone, come la grigia, con la pinzga, con la pustatale, che sono resistenti, che sono animali che si adattano alle nostre montagne, così anche con la vegetazione.